Va bene, allora, lo avevamo detto e lo abbiamo fatto, nel senso che, come lo ribadisco, anche se qualcuno ha un po' frainteso le mie dichiarazioni, l'intero 118 pugliese era basato su un volontariato, diciamo, tra virgolette, un po' forzato, che ovviamente in alcuni casi, come per le misericordie che si sono lamentati, certamente aveva anche la sua correttezza e formale legalità, ma non era giusto comunque, perché è un servizio essenziale dal punto di vista sanitario, è la principale porta di entrata nel sistema sanitario e quindi non era corretto che questo livello non avesse un tasso di professionalità e di sicurezza nel lavoro uguale a quello di qualunque altro sanitario in qualunque altro settore. Quindi io ribadisco che l'internalizzazione del 118 dentro Sanità Service, che è una novità, è una nostra, diciamo, invenzione, tra virgolette, ha consentito a tutte queste famiglie, come ho precisato più volte, di vivere normalmente una dimensione professionale molto complessa e a grandissimo stress, potendo ottenere mutui bancari, potendo affittare case, potendo vivere normalmente, questo per noi è un atto di giustizia, che non toglie nulla al volontariato, ma il volontariato serve ad altro, non a gestire il 118. A noi questa operazione è costata 40 milioni di Euro in più, dare sicurezza e professionalità al 118. Però era una cosa giusta e non si risparmia sulla pelle dei pazienti e di chi deve rischiare alle volte la vita per correre a soccorrere il prossimo. Quindi le misericordie mi faranno la cortesia di accettare l'idea che la Puglia abbia deciso che il 118 non poteva essere nelle mani di un sistema di volontariato, per quanto nobile e importante. Il volontariato ha altri scopi, comprendo anche che questo ha cambiato l'assetto, perché adesso queste ambulanze tutte modernissime, la Puglia ha ambulanze modernissime di proprietà nostra in tutta la regione e questo evidentemente sottrae a queste organizzazioni, sia pure meritevoli, spazi e ruoli. Lo riotterranno nel cosiddetto trasporto secondario, nel quale significa nel trasporto dopo il ricovero, quando bisogna spostare un paziente da una parte all'altra, avremo certamente bisogno del loro aiuto, ma questa funzione è così importante, perché il 118 stabilizza il paziente a rischio di morte rapida, questa è la sua funzione principale, poi serve anche al resto, ci mancherebbe, però questa è la sua funzione principale. Queste ambulanze hanno sistemi rianimatori paragonabili a quelli di una sala di animazione e quindi riescono a stabilizzare qualunque tipo di problematica e con l'aiuto delle centrali che verranno peraltro a brevissimo ulteriormente rafforzate e ristrutturate, andranno a prendere il paziente giusto, con l'equipaggio giusto, con la macchina giusta, perché chiaramente le ambulanze non sono tutte uguali, hanno anche particolarità che man mano verranno seguite e realizzate. Quindi io sono contento e convinto della giustezza di quello che abbiamo fatto.